con le mani gestita poi da Marsura viene contrastato bene da Cristante che poi allontana il pallone a cercare Petagna questa volta riesce a liberarsi di Sico, di forza Petagna lo porta via, 3 contro 2, Petagna, 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 la filtrante per Gans! Simone, Andrea Gans, 3 a 0 per il Milan, bellissimo assist di Andrea Petagna che questa volta fa valere la sua strapotenza fisica, la palla per il capitano che lì, così come nel derby si fa trovare pronto all'appuntamento con la sua amata più bella, ovvero il gol il gol di Simone Andrea Gans